ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video è ricominciata la serie di Genshin in italiano siamo al capitolo 6 e ci siamo fermati in un punto molto 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 interessante della storia siamo qua in live sul sito viola pronti per portare avanti questa piccola parte che ovviamente voi vedrete su youtube a posteriori quindi io comunque come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i social principalmente sul sito viola per vivere questa esperienza in prima persona in diretta e poi ovviamente anche su instagram su tiktok e su tutti appunto gli altri social su cui mi trovate detto questo oggi ripartiamo carichissimi che siamo nella patch nuova e si avvicina sempre di più il momento in cui pulleremo anche su questo account quindi iniziamo allora l'ultima volta siamo rimasti che eravamo alla r15 e dovevamo fare la r18 per continuare la storia io mi sono impegnata amici mi sono impegnata e ho fatto la r18 flyve quindi come vedete la quest è libera non ce la da sbloccare infatti se vedete qua a r18 quindi possiamo continuare l'ar con queste prima di continuare l'ar con queste alla velocità della luce faccio le daily quest fondamentali per livellare molto velocemente quindi ci facciamo le nostre daily quest la prima volta che o meglio la seconda che ce le godiamo su questo account e via allora detto questo procediamo mi raccomando lei daily fatele tutti i giorni lei daily fatele tutti i giorni perché così facendo guadagnerete un sacco di esperienza che è fondamentale per livellare a inizio gioco e per raggiungere almeno la r20 che in molti casi è quella r che vi blocca da fare eventuali eventi quindi mi raccomando alla luce di questo concentratemi a farle vi occupano veramente pochissimo tempo e così facendo vi permette di guadagnare anche un bel po di primogen solta all'esperienza quindi mi raccomando sono importanti ora io non sono molto abituata a giocare su questo account perché ci faccio veramente solo le daily in questi giorni perché è uscita la patch nuova quindi sul principale stiamo facendo un sacco di cose e quindi mi sto godendo tutti gli eventi che qua purtroppo per ora solo per ora non potremo fare allora bene questo l'abbiamo eliminato ora colpiamo il nostro amico qui sopra che è l'ultimo rimasto ok morto e arrivano i rinforzi come sempre raccogliamo il materiale necessario e via vediamo questo io volevo passare andare a menare questi dietro eccoci qua vediamo i nostri amichetti boom 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 anche lui ok saltato l'abbiamo schivata alla grande devo dire ottimo 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 la mia fischio devo dire fa dei bei danni cospicui un bel 13 di danno non è affatto male ragazzi miei e poi via pa missione fatta detto questo cosa molto importante ragazzi cosa molto importante grazie alla patch nuova hanno grazie al cielo fatto un bellissimo login giornaliero mi raccomando basta loggare 7 giorni su un totale di 14 per riuscire a raggiungere tutte le ricompense fatelo perché regala una multi nel banner evento che è quello in cui scegliete il personaggio evento o se no un'arma quindi lo trovo molto utile per tutti i nuovi player come questo account vi consiglio caldamente di puntare i personaggi le armi sono quel materiale un po più da endgame il banner armi un po scam ne parleremo o meglio su questo canale youtube trovate già un video che ve ne parla quindi poi se avete ulteriori domande vi risponderò volentieri però sappiate che ci sono già le risposte a queste domande qua ok procediamo seconda daily quest le facciamo tutte e quattro e poi andiamo a fare l'ar con questi insieme e via planiamo sperando di riuscire a arrivare dall'altra parte ciao e via ho sbloccato anche un po di teleport ragazzi off live perché sennò ovviamente spostarsi appunto per fare le daily o queste altre cose si stava rivelando abbastanza complicato quindi ovviamente lo sbloccate off live ma non vi siete persi un gran contenuto dato che i teleport li vedete nella mappa non ci sono grandi problemi nel raggiungerli e cose varie qua facciamo così mi raccomando ricordatevi che questa guida esce ogni sabato è uscito l'episodio scorso quindi andate a vederlo che appunto c'era stata una settimana di pausa nel frattempo perché purtroppo mi era malata ma settimana scorsa è uscito il quinto episodio e questo sabato uscirà quest'episodio che stiamo girando adesso quindi ogni sabato c'è l'episodio nuovo di questa parte qua ok da uccidere soltanto il nostro amichetto questo qua che è rimasto in vita facciamo concentrare su altri nemici così che nel frattempo non lo possiamo menare da dietro tanto ha pure rotto lo scudo quindi bene mazzettate e via lo possiamo salutare missione completata andiamo alla prossima esatto slay Keia esattamente esattamente siamo tornati ai momenti in cui Keia ci slaya il team incredibile proprio quei ricordi di tempo tempo addietro ok procediamo missione qua che dobbiamo fare parla con Wyatt andiamo e via benvenuto freedom benvenuto la chiave smarrita eccoci qua uè bene 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 ci fa un po' di chiacchiere va dobbiamo trovare questa chiave utilizza la vista elementale per trovare la chiave quindi noi attiviamo ovviamente la vista elementale che è questa qua e vediamo di trovare questa chiave ovviamente 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 dobbiamo andare nell'area apposita che è questa di qua quindi andiamo vediamo se non ci nota siamo fuggitivi o bravi 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 non ci hanno stato su quest'account abbiamo soltanto gine di 5 stelle sul principale gli ho tutti mentre appunto su quest'accanto abbiamo gine di 5 stelle e poi abbiamo trovato official gli altri sono quelli canonici dell'inizio ecco ecco i passi seguiamo i passi eccola eccola guardate qua raccogliamo non sembra sia una chiave allora dobbiamo continuare a cercare veniamo questi simpatici amici senza cucinare magari è troppo lontana qua poi qua e vai bene eliminati tutti continuiamo a cercare ci sono funghi di qua sopra qui c'è qualcosa eccola qua la chiave smarrita noi siamo pigri e ci teleportiamo qua per tornare prima oh vai possiamo fare anche questo ed eccoci qua salve le abbiamo ripreso la chiave signore non ci ringrazio per così poco perfetto e adesso andiamo a fare l'ultima dei lì di oggi il male si diffonde andiamo 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 qua su non ho sbloccato un teleport non ho sbloccato un teleport sono una disgraziata c'è un teleport da sbloccare va bene ci andiamo subito allora maledetto teleport è nascosto lassù in cima non l'avevo mica visto male molto male ragazzi molto molto male il teleport lì vi giuro vi giuro no 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 andiamo subito ora uccidiamo i nemici che sono qua che ci stavano aspettando per fare appunto festa e poi appunto ci preoccupiamo del teleport ma guardate voi avevo scordato un teleport incredibile mettiamo che Keia si ricarichi che Keia ce l'ho buono qua mettiamo giù questo di shield facciamo così ci servirebbe un idro per questi tipi qua un idro è proprio il suo però abbiamo quello che abbiamo chi è che mi sta lanciando roba ah ma questo guardate questo quanta vita ma che vuole basta non mi distrarre che ero qui a menare questo tipo li lanciamo addosso di tutto boom proprio mal menata da grande vai e c'è anche questo slime è simpaticissimo che si è unita alla festa Keia è fortissimo io lo dico sempre tutti i personaggi di Genshin Impact sono fortissimi ragazzi tutti 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 andiamo su di qua e via ecco qua oh ora ora ci sentiamo in pace con noi stessi torniamo a Monstard consegniamo tutto e riprendiamo con l'Arcon Quest dove ci eravamo fermati andiamo 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 ci ero andato buon pomeriggio andiamo alla spedizione anche qua abbiamo le spedizioni sbloccate dal livello 17 e poi ovviamente facciamo così riscatta gli incarichi e ci dà 500 punti exp guardate ho quasi fatto il 19 sì esatto siamo sul secondario e adesso continuiamo l'Arcon Mago dell'abisso ce l'avamo fermati proprio qua dobbiamo andare alla Dawn Vinary eccoci qua eccoci qua eccoci qua adesso continuiamo l'Arcon Quest dove ci eravamo fermati se vi ricordate avevamo riparato la lira di venti e avevamo praticamente richiamato Dvalin che però aveva mostrato che la sua corruzione era dovuto da un contatto stretto con il Mago dell'abisso che aveva in qualche modo oscurato la sua anima e siamo rimasti un attimo interdetti e dobbiamo decidere come procedere infatti siamo qua e infatti l'Arcon Quest in questo momento si chiama proprio Mago dell'abisso eccoci qua che ci stavano aspettando tutti ciao Lego buon pomeriggio eccoci qua l'Ordine dell'abisso i nemici dell'umanità perfino i sistemi di spionaggio più avanzati raramente riescono a raccogliere informazioni su di loro è stata una bella seccatura ma alla fine sono riuscito a trovare degli indizi davvero sei stato velocissimo patron di Loc hai proprio le conoscenze giuste però è strano come mai il grande dio di Anemu a Barbatos ha bisogno dell'aiuto di semplici esseri umani come te lo spiego quelli che oggi le persone conoscono come i sette in passato venivano chiamati i sette Arcon ogni Arcon ha come compito quello di presiedere alla propria parte di Teviat sto adempiendo solo adempiendo a questo compito possiamo ottenere il potere anche se a me non fa assolutamente impazzire l'idea di governare Mondstadt e credo che neanche i cittadini di questa nazione lo vogliano andata è creata una città della libertà senza padroni non ci siamo scordati di quello che Barbatos desidera per Mondstadt Jean che devozione esagerata forse qualcuno si è preso un po' troppe libertà e non ha voglia di occuparsene in quel caso in ogni caso è da moltissimo tempo che non torno a Mondstadt al momento sono sicuramente l'Arcon più debole dei sette sembra quasi tutto ne stia vantando che dolce così mi fai arrossire oh che Dio umile chissà se sarà un bene o un male non perdiamoci in chiacchiere e torniamo al nocciolo della questione il nemico comune del genere umano abbiamo rientracciato il mago dell'abisso nei dintorni del vigneto non dobbiamo assolutamente farcelo scappare prendiamolo la canzone del drago della libertà prologo atto 3 sconfiggi gli assalitori andiamo ci sono gli assalitori da sconfiggere quindi insomma Diluc in questo lasso di tempo in cui io livellavo era andato a cercare informazioni dei suoi informatori ha ottenuto delle conoscenze per quanto riguarda il fatto che si trovava in questi paraggi il mago dell'abisso e noi adesso andiamo a malmenarlo di botte let's go let's go ecco l'aria assegnata sulla mappa che vedete sempre sopra di me nella webcam e vediamo un po' dove si trovano eccola dei nemici ecco qua uffa tutte le volte non riesco a calibrare bene la distanza però nessun problema allora il problema in questi casi è sempre eliminare questo tipo guardietro perché questo tipo guardietro che sembra un tipo riservato e tranquillo in realtà come vi dicevo altre volte ha quel brutto vizio di curare con quella pioggia il team hola cos'è e ciao Ale quindi di conseguenza eliminare lui vuol dire eliminare la cura del team a quel punto ci si può concentrare su chi veramente fastidio ce lo dà quello lì non fa danno a noi però ci dà fastidio perché se cura gli altri noi non riusciamo in nessun modo a come si dice a buttare giù poi lo scudo perché questo rimette continua a rimettersi eccetera eccetera quindi eliminato quello che fa danno poi solo quello che fa la cura poi è tutta una questione di malmenare all'infinito finché non si fanno i danni necessari per buttarli giù definitivamente ah no anche a me comunque 20 mi ha sempre dato questa impressione di essere più debole degli altri sarà un po' la natura festaiola però c'è qualcosa di per sé che me l'ha sempre data anche a me questa impressione mettiamola così e questo cos'è dopo che abbiamo sconfitto il mago dell'abisso il suo corpo ha cominciato a emanare una strana energia sembra che quell'energia venisse usata per interrompere il legame tra me e dvalin hai sentito parlare del covo del terrore alato no sono sicuro che gin e patron di look ne sono a conoscenza dopo essersi risvegliato dvalin fece di quell'antica rovina il suo covo l'entrata delle rovine è sigillata da una barriera speciale simile alle tempeste che avevano separato monza dal mondo esterno ora però vedendo l'energia fuoriuscita dal mago dell'abisso sono riuscito ad ascoltare il flusso ritmico che compone la magia della barriera devo essere sincero nemmeno gli schiamazzi degli rishur hanno un suono così orrendo ma dovrebbe essere sufficiente per superare la barriera di vento e raggiungere il covo di terrore alato quindi se ho capito bene dovremo affrontare dvalin giusto? per me non c'è problema ma gin vuole evitarsi qualsiasi tipo di conflitto ti sbagli in mancanze alternative è mio dovere cambiare i nostri piani di conseguenza se non abbiamo altra scelta che ucciderlo non mi tirerò indietro anzi sarò io a guidare la carica per fortuna al momento non è necessario arrivare fino a quel punto intendi dire che voglio dire che la lira sacra non è la nostra carta vincente sapete qual è il vero asso nella manica? ma Wittiel mi sembra ovvio siamo noi ragazzi siamo l'asso nella manica esatto è il primo vero boss che affrontiamo il boss poi settimanale gioco anche alcune volte venti sembra voler giocare sul fatto che lui è considerato il più debo proprio per abbassare le nostre aspettative forse è quello non lo so io nella mia testa l'ho sempre vissuto come un po' più debole degli altri però è un po' quello che lui mi ha trasmesso magari è tutto un diversivo lo fa apposta dici così perché hai purificato il cristallo di Dvalin esatto ma hai un talento ancora più prezioso le impurità nelle lacrime e la maledizione che persegue Dvalin risalgono tutte allo stesso potere malefico il che significa bardo sonato che non sei altro ma ti rendi conto dell'assurdità che stai dicendo? ho visto anche tu di cosa sei capace e di cosa è capace Dvalin quando si arrabbia ma ovviamente il non ha scampo non riuscirà nemmeno a scalfirlo che fine hanno fatto i complimenti per le mie capacità in battaglia hey è un ottimo piano vale la pena fare un tentativo combatterò il tuo fianco cavaliere onorario oh quindi dobbiamo solamente affrontare dei mostri dell'abisso e un drago niente di che no? anche gli umani hanno i loro punti di forza andiamo e così le gesta epiche degli eroi coraggiosi li condussero infine al culmine della battaglia lui presenta la nostra morte intanto Golday e Nixon grazie per il follow benvenuti in drive ragazzi e niente veniamo condotti al patibolo veniamo condotti al patibolo ragazzi come vi sentite a dover andare incontro a morte certa come la viviamo con questo momento come lo viviamo procediamo per la nostra strada che qui si va ad affrontare Dvalin raggiungi l'ingresso al covo di terrorato let's go let's go si va oh c'è gente ignoriamoli tutti ora siamo di corsa lasciate ogni speranza su voi che entrate esattamente siamo in quel mood lì mi ricordo di averci dannato per fare radio a telefono che dramma no io almeno le cose importanti le ho sempre fatte da pc poi quando vado in trasferta e magari vado a dormire qualche giorno fuori casa mi porto l'ipad per giocare però anche lì controller canzoncina con i tizi con la baria quella lì ciao Ettore buon pomeriggio siamo in quel mood lì fantastico eccoci qua ragazzi alla nuova area che dobbiamo sbloccare eccoci qua covo di terrorato altamente pericoloso arrivati precisi è una barriera di tempeste sembra molto pericolosa ci penso io anche se ho solo questa lira di legno a disposizione non ho bisogno della lira per distruggire una barriera di tempeste di questo tipo eh? e quella cos'è? i guastafeste sono arrivati i guastafeste ragazzi nemici in arrivo preparatevi ciao Anvis andiamo oh piano 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 io voglio andare meno a loro in realtà perché c'è il tipo che fa i vortici di animo lo volevo sinceramente togliere da dalla posizione poi dopodiché mi preoccupo anche sul resto ma nel frattempo tu il primo a essere eliminato vabbè questi ormai sono morti e diventa un 1v1 verso questo ah no c'è anche un altro tipo questo questo primo non c'era è comparso dopo hanno chiamato il rinforzo in pratica ok manca solo il tipo che ovviamente verrà picchiato da da Oz ci mettiamo qua davanti questo così lui sta concentrato su quello lì e noi il fattempo dietro lo picchiamo smetti la tipo di spengerti lo shield sto cercando di bruciartelo per un motivo è inutile continui a togliertelo infame maledetta avete visto come continuare a rimettersi lo shield ci siamo fatto c'è eufonia di solito gli irishul non si avventurano in aria ad alta concentrazione elementare tendono a spaziantire i loro corpi forse l'ordine dell'abisso li sta manovrando di nascosto ma anche se fosse non avrebbero potuto sapere che ci stavano dirigendo qua probabilmente stanno schierando le loro forze per metterci i bastoni fra le ruote torniamo a noi se solo c'è il vento ad ascoltarmi penso di poter suonare più velocemente ciao france bentornato vediamo dissolto tutto ciao sommi benvenuti in live si è aperta allora non sei del tutto inutile bardo suonato ci siamo adesso entriamo nel covo di terrore alato fate attenzione andiamo livello 19 dovremo raggiungere la statua l'app e sbloccare l'area fino a quel momento non abbiamo la visione della mappa al completo andiamo dalla strada principale mi sembra quella più intelligente lì c'è una cassa e qui c'è un utilissimo teleport manca poco al livello 20 si questi non vanno colpiti con l'anemo il livello 20 è importantissimo perché tanti veramente tanti eventi di di genshin si sbloccano al livello 20 quindi questo ci permetterà anche di farmare materiali che vengono ottenuti grazie agli eventi sul sul secondo account che non è affatto male perché comunque se vogliamo andare avanti con l'arcon questo un po' i personaggi dovranno progredire e quindi per ascenderle tutti i vari materiali sarà necessario anche perché fra un po' fra un bel po' sbloccheremo le quest di ascensione e poi se non sbaglio dal livello 20 si sblocca anche il fatto di fare i boss quindi inizieremo veramente ad ascendere i personaggi questi principali andiamo cassa aperta ed eccoci qua questo è il cuovo di terrore alato sembra che questa sia la porta principale del cuovo di terrore alato ecco io ho anticipato Paimon l'ho anticipato Paimon sapevo cosa avrebbe detto la lucerta la raccoltiamo oh ma non ha tutti i torti eccoci qua è tutto così poi nella lore canon il fatto che stiamo utilizzando appunto Jin che è un personaggio che c'è in questa parte dell'arco non possiamo passare è bloccato ehi da solo occhiata a quel tetto sembra che ci sia un buco enorme va bene Rudy ciao dopo ciao Maleshi e c'è un buco enorme direi che si vede potremmo sfruttare quella corrente d'aria allora facciamo una piccola deviazione e andiamo su allora facciamo una piccola deviazione e andiamo su let's go seguiamo la strada entra nella torre abbiamo i nemici da abbattere ok eliminati questi 9 amichetti distruggiamo tutto e vi ringrazio per il follo benvenuti in live ed eccoci qua scopri come superare la barriera di vento questo proprio guardate come lo ignoriamo guardate come lo ignoriamo questo ciao amico ci vediamo in cima e loro non li possiamo ignorare invece direi che sono belli ma in vista oh c'erano anche i rovi da bruciare quindi siamo stati anche bravi abbiamo fatto il doppio del lavoro ragazzi in un colpo solo abbiamo anche bruciato i rovi qui c'è una chest che prendiamo e poi andiamo per stare in tema con ciò che sto studiando c'è un'opera che si chiama witsit è in tema genshin quello lo rompiamo così ed eccoci qua raggiungi la corrente ascendente ci siamo quasi a sbloccare la mappa manca pochissimo eccoci qua qui ci arrampichiamo ed eccoci qua scopriamo e raggiunge la cima e la torre ma prima il mondo si apre davanti a chi possiede un cuore nobile sbam ciao sunset buon pomeriggio l'abbiamo sbloccata tutta ecco qua l'area che ci mancava di monstat adesso abbiamo praticamente sbloccato tutta monstat tranne dragon spine che è quest'area qua che fa parte di monstat eccoci qua abbiamo la stata dei sette nuova altri annemoculus da prendere in quest'area abbiamo fatto una quest e adesso prendiamo e andiamo in cima voliamo 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 qua davanti non si può andare se non sbaglio o si ah di qua si poteva già andare baule sbloccata e via entriamo nella torre giriamo a largo del tipo non troppo simpatico quello ce lo siamo proprio superato e saliamo eccoci qua oh non possiamo proseguire sembra che le rovine siano protette da antichi sigilli che sia opera di dvalin no non è opera su in passato quelle rovine facevano parte di un'antica città dvalin ha semplicemente fatto il suo covo momentaneo queste rovine esistevano da prima della nascita dei 420 monstrad è una città senza surano tuttavia in passato ne aveva uno ed era un tiranno in ogni caso vi canterò la sua storia non appena ne avremo l'occasione guardate i segni su questo sigillo se le mie conoscenze archeologiche non mi ingannano questo è un attuatore di luce oh mamma già sta roba non me la ricordavo ciao Morgana buon pomeriggio se recuperiamo e reintegriamo tutte le parti forse riusciremo a farlo funzionare non dovrebbe mancare molto al termine rituale di questo attuatore rimettiamo l'ultima parte a posto e vediamo ecco l'ultima parte è qui la portiamo con noi la mettiamo qua i primi meccanismi ragazzi in assoluto ecco ecco fatto qui c'è una chest la prendiamo ovviamente e facciamo un attimo il giro largo di là perché voglio sbloccare anche il teleport qui perché non so se adesso il team è già forte per battere dvalin non lo so se siamo all'altezza sembra proprio che avessimo ragione ci sono altri tre anelli di luce che proteggono la torre ciò significa che ci sono altri tre attuatori di luce ad attivare riesco a vederne uno da qui gli altri saranno sparsi tra le rovine quindi i dintorni andiamo a cercarli per quale motivo dvalin ha scelto un covo così pieno di rompicapi e sigilli come fanno i nervosizzi ogni volta che deve tornare a casa non è entrato camminando ma volando in effetti hai ragione ok adesso abbiamo segnalato sulla mappa i punti in cui dobbiamo spostarci dobbiamo cercare un'uscita fatta bene io ho scelto di farlo nella maniera peggiore ma sono comunque arrivato in un punto abbastanza intelligente passiamo di là e andiamo a pendere i tre punti eccolo là l'attuatore ed eccola anche i fasci di luce intorno di qua non possiamo passare ma di là sì mi ricordo che qua dove ci sono i tipi che si sporgono si può passare eccoli qua questi sono al 30 per questo vi dicevo secondo me siamo un po' sotto io direi che ci meritiamo un piccolo bustino ragazzi direi che sì il livello 20 almeno ce lo meritiamo perché se no qua poi finisce che piangiamo possiamo far ascendere tra prima volta i personaggi abbiamo anche i materiali di ascensione perché li avevo già presi quindi possiamo anche fare questa piccola cosa ma io porterei un attimo tutti loro su fare così e sfrutterei questi altri libri visto che comunque per ora loro saranno il main team secondo me ha un senso ai fini del gioco anche portarli tutti al 20 e vi dirò di più Jin direi che la scendiamo per la prima volta quindi possiamo dicare ufficialmente che in questo episodio facciamo la prima ascensione di questo account visto che i materiali li ho a disposizione e livelliamo ulteriormente Jin tanto lei per il momento sicuramente è sicuramente un personaggio che noi useremo su questo account quindi tanto vale la pena portarla almeno un altro po' su diamo le altri 5 livelli giusto per essere più in linea con quello che andiamo ad affrontare adesso e via e tra l'altro ascendendola abbiamo sbloccato anche una pool abbiamo sbloccato anche una pool mi sa che non è l'unica ma ne abbiamo due quindi direi alla fine dell'episodio dopo aver sbloccato queste cose potremmo potremmo fare queste due pool sul permanente vediamo se troviamo qualcosina intanto andiamo qua nell'area di riferimento c'è anche un teleport quindi planerei sul teleport quindi abbiamo due pulline da fare nell'account potremmo fare le line per i libri teoricamente sì ma no nel senso non mi sembra di aver visto se ho già le line sbloccate questa è una cosa che mi manca di vedere non ci ho fatto caso quindi non sono sicurissima di questa cosa anche in questo caso ragazzi mi concentro prima a eliminare questi tipi antipatici perché questi praticamente sono sti infami che creano i rovi e i rovi mi intralciano la strada e mi impediscono di camminare quindi veramente fastidiosi una volta eliminati loro ci concentriamo nel buttare questo tipo giù di shield con lo shield elementale che ovviamente possiamo fare principalmente con con Kea e ovviamente con Jin e Amber ovviamente non con Amber scusate non con Amber perché Amber è dello stesso elemento una volta tirato giù lo shield si può malmenare con chiunque ecco cioè adesso adesso prendiamo e lo scazzottiamo ben bene Jin inizia a fare anche 300 di danno eccetera l'ascensione si nota ecco ta adesso prendiamo vediamo se appunto si vedono le line allora a vedere si vedono quindi forse si possono già fare forse forse si possono già fare potrebbe essere interessante perché potrei farle off live così da avere i libri per portare su tutti loro anche se raggiungendo la R20 probabilmente posso fare anche le ascensioni ok e questo l'abbiamo attivato direi che mi sembra perfetto che facciamo l'attivazione di tutti e tre i cosi e poi facciamo le pull come episodio di oggi così che Dvalin lo facciamo la prossima volta in maniera tale che ho modo di portare leggermente su anche gli altri personaggi che ve ne pare mi sembra un piano strutturato in maniera intelligente ora ignorerò le casse e tutto l'esplorazione per bene la faccio ovviamente off live e via esatto mi potete venire aiutare off live esattamente stando su discord eccetera chi vuole venire aiutarmi a fare i boss per tirare giù tutto potete venire così ce lo facciamo off live tranquilli mi sembra perfetto allora vai facciamo questa parte qua devi attivare anche questi altri due sì sì sono d'accordo sono d'accordo ottima collaborazione team ottima collaborazione per questo questo dicevo è il nostro account perché questo lo cresciamo come se fosse un figlio della community la mascotte della community è diventato questo account allora lì c'è l'attrattorino c'è da capire dove sono i pezzi i frammenti sono qua intorno o no sono là ok sono lì ah sì è qua ce n'è uno anche lì sopra sì sì devo menare quelli quindi lo denominiamo nostro figlio questo questo account ragazzi nostro figlio chiunque è presente durante le live è in parte genitore di questo account esatto piccolo figlioletto sapevate eravate genitori non lo sapevate ora lo sapete è un amiciccio esatto si va a one shot di regis vine sì sì per hobby per hobby tanto con questa missione io penso che la r20 ce lo facciamo assolutamente sì chi manca manca un tipo che ci sta sparando da qualche parte probabilmente da sopra andiamo a vedere ah eccolo il sim oh la freccia che dodge che vuole questo qui accanto no lo slime no adesso mi distrae prima io ma possono questi slime venirmi a rompere scusate devo andare un attimo a malmenare lui poi vengo a malmenare anche voi botte per tutti no gina ti prego non cadere dov'è ok quello è caduto e manca l'amico di qua che è rimasto con metà vita punk ta 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 oh vai sì esatto siete genitori a 13 16 20 anni siete tutti genitori e non lo sapevate dovete avvisare le vostre famiglie ok andiamo qua perfetto torniamo su così prendiamo gli altri due e andiamo a sbloccare l'altra parte di questa quest vi giuro non mi ricordavo niente sono così felice di starlo rifacendo in questo momento oh io vorrei sinceramente distruggere qua prima di pensare ai signori Geo cioè i signori Geo in un altro momento oh full metal che avevo fatto pure un achievement pensate un po' ok c'era l'ultimo da qualche parte l'avevo visto è là quindi ci devo planare dentro vabbè mi arrampico lì sopra e plano dovrei riuscire ad arrivarci senza problemi eccoci qua come crescono in fretta sì ecco qua siamo centrali sì perfetto possiamo andare e poi ci manca l'ultimo da stiamo andando forti eh stiamo andando forti ragazzi stiamo andando veramente forti oggi vi ho fatto un bel pezzetto di storia un misto di chiacchiere e anche di cose da fare che è la cosa più bella secondo me quando si fanno un misto di cose da fare ok ci manca l'ultimo che è qua no segnamelo vai io mi metto come navigazione del teleport in primis così ci vado diretta sentendomi male procediamo guardateli si vedono lassù io questi li ignoro ora da fare guardateli si vedono lassù in cima a quelle torrette poi ora che si può iniziare a scendere i personaggi dà ancora più soddisfazione perché all'inizio si dice ma che faccio solo 5 di danno ma come è possibile ora vedete ora vedete si iniziano a fare i boss che faremo insieme e questa sarà probabilmente la cosa più divertente il fatto che off live potrete aiutarmi a continuare quest'account e a portarlo su per renderlo poi appunto sempre in pari per fare un qualcosino online ecco qua il turbine vado un po' dove ci ha portato il turbine esattamente dove serviva a noi 1 2 pausa teleport e 3 e poi tà fatto perfetto 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 chiaro lineare preciso attiviamo andiamo a attivare il sigillo non partiva subito il boss devi scegliere te quando startarlo giusto non partiva cioè adesso se mi dice parla con cioè attiva quello lì voleva attivare esatto dopo aver completato la missione vorrei trasformare le nostre avventure in canzoni beh ultimamente ne abbiamo passate tutti i colori spero che questa canzone sarà cantata per molti anni nella gente di monstad proprio come la leggenda di venessa è una delle mie canzoni preferite fin da quando ero piccola ma wittiel come ti senti oggi io sono pronta più che mai e sono sicura che riusciremo a portare a termine la nostra missione sei così affidabile maestra jean perfino patrondilo che ci ha assistito fino alla fine sebbene ti trovi qui solo per caso non è così patrondilo tu hai condiviso il tuo segreto con me io non ho fatto altro che ricambiarle la tua fiducia quindi è stata la fiducia a portare patrondilo fin qui e per la maestra jean dove è stata la responsabilità vero? dove è stata la responsabilità vero? e per te invece bardo storato è stata la libertà la libertà? quando siete arrivati a monstrad nessuno vi ha detto che viene richievata la città della libertà? amber lei si che rappresenta la quintessenza della libertà monstrad è una città romantica senza nessun re a governarla i suoi cittadini godono del più alto livello di libertà fra tutte le sette nazioni spero che anche il drago che per una volta proteggeva monstrad venga liberato presto nessuno avrebbe dovuto ingannarlo dicendogli che monstrad l'aveva tradito e nessuno gli avrebbe mai dovuto dire che il suo compito era di proteggere la città a vita ha il diritto e la libertà di scegliere cosa fare nella sua vita venti bene mawitiel che i migliaia di anni di vento che hanno soffiato su monstrad possano assisterti proprio come l'ultima volta incanalerò l'energia di animo per te l'ultima volta oh ecco perché mawitiel ha detto che la sua voce gli suonava familiare ed eccoci qua io direi che ci fermiamo da un punto di vista di gameplay qua così che la prossima volta facciamo appunto il boss così da qui a settimana prossima ci alleniamo portiamo sui personaggi ciao ginger e ciao carol e portiamo su appunto ma prima di chiudere questa parte di oggi abbiamo due singolette da tirare nel banner army e che facciamo non le tiriamo due singolette nel banner army nel banner permanente e che facciamo non le tiriamo due singolette le tiriamo ci prepariamo psicologicamente al drago per la prossima volta ma nel frattempo non penso uscire a niente sia perché gine è uscita qui che il 4 stelle è uscito qui ma mai direi mai quindi facciamo un bello spammino di emoticon per vedere se magari esce un altro 4 stelle magari un pg o magari un'arma da dare a uno dei nostri pg e vediamo un po' andiamo prima singoletta di queste due 3 stelle che non è male all'inizio perché non abbiamo armi da dare a tutti i nostri amichetti quindi 3 stelle va benissimo e seconda singoletta 3 stelle peccato sarà per la prossima volta sarà per la prossima volta andrà meglio anche perché quando arriverà Utao pulleremo quando arriverà Utao pulleremo con le Primogems ragazzi miei quindi prepariamoci che per la prossima seconda parte di patch pulleremo su quest'account detto questo io ringrazio chi è stato qui con me fino adesso su youtube questa parte è uscita come ogni sabato e continuerà a uscire ogni sabato per viverla in diretta vi invito a seguirmi sul sito Viona e su tutti gli altri social che vi lascio nella descrizione nell'account qua su youtube nelle informazioni youtube in prima pagina ovunque 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 quindi mi raccomando io vi ringrazio tantissimo ci vediamo alla prossima parte che sarà settimana prossima dove affronteremo te l'ho realato il primo vero boss settimanale di questo gioco che servirà per ascendere nei livelli più alti i talenti dei nostri personaggi ma di questo parleremo la prossima volta quindi un salutino e ci vediamo alla prossima avventura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti